Discarica abusiva scoperta e posta sotto sequestro a Vallo della Lucania. Gli uomini del corpo forestale hanno denunciato a piede libero un uomo responsabile di gestione illecita di una discarica di rifiuti speciali con modifica dello stato dei luoghi incontra da Cognulo. Il comando stazione forestale di Vallo durante un accertamento congiunto con personale tecnico dell'ARPAC Campania su un terreno privato di pertinenza ad un fabbricato ha constatato la presenza di rifiuti speciali pericolosi provenienti da attività edili, depositate a cielo aperto. Durante il sopralluogo è stata riscontrata la presenza di cumuli di rifiuti sia sul suolo che costipati nel suolo con ingenti quantitativi di rifiuti pari a circa 200 metri cubi, costituiti da terre, rocce, da scavo, mattoni, materiale ferroso, plastiche e così via. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti ha modificato in modo permanente lo stato dei luoghi con degrado dell'aria protetta di notevole interesse paesaggistico ed ambientale. apportando sostanziali modifiche al normale deflusso delle acque del fiume Badolato, del torrente Santa Sofia e del vallone Tuncurulo. Il sito posto sotto sequestro è stato segnalato agli enti competenti affinché mettano a carico del responsabile dell'abuso ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, importante per restituire il normale deflusso delle acque del fiume e del torrente e la funzione naturale del vallone. L'uomo denunciato alla procura della Repubblica di Vallo rischia una pena da sei mesi a due anni di carcere.